In ogni padre, in ogni madre, c'è sempre verso i bambini piccoli, verso i figli, ma glielo è giusto dirglielo, questo silenzio e quest'ansia in cui spesso i genitori sono paralizzati, è veramente come giocare alla roulette. Questo dire, non dire, come dire, aspettare qualcosa che nel libro, ma anche nel film, è un po' un pretesto di questo ritardo, di questa scoperta. Mi scusi. Prego. Credo di aver parlato con lei poco fa al telefono. Ah sì, la tachicardia parossistica. A me sembrava che un certo tipo di malinconia, lo sguardo, il cinema è molto lo sguardo, come uno dice le parole. Abbiamo cercato di attenuare, penso ci siamo riusciti, la cadenza romanesca. Però questo è secondario, ecco. In questo senso ho pensato che fosse più importante quell'altra cosa, ecco. Lei si è chiesto il perché di questi attacchi? Da dove vengono? No, gliel'ho detto la prima volta. Quando mi viene l'ansia riesco a controllarmi, ci sono sempre riuscito. Poi da bambino, soprattutto dopo la morte di mia madre, avevo anche qualcuno che mi aiutava, che mi dava dei consigli. Era un ruolo da un punto di vista esteriore, quindi d'immagine molto lontano da me, tant'è che ne parliamo. Portato poi da lui dentro quello che voleva raccontare, come voleva raccontarlo e l'interesse che nutriva per l'anima di questa storia, eccetera, ho scoperto invece molte cose vicine. E quindi il lavoro è stato molto interessante, sia proprio tecnicamente, perché poi non avevo mai lavorato con Marco, quindi è stato... ma anche molto da un punto di vista emotivo. E non è una cosa che a me è capitata spesso quando lavoro, non perché sia un robottino, però qui c'era qualcosa che... insomma, c'è qualcosa. Non mi chiedere che, perché è troppo lunga, però forse nemmeno lo so. Però è un personaggio lontanissimo da me, come per una serie di ragioni, non solo territoriali, eccetera, ma questa vicenda invece è molto, molto, molto vicina per certi aspetti a qualcosa che... Era un tipo piuttosto autoritario. Suo padre? No. E allora chi? Un suo amico? Sì, in un certo senso sì. Un vero amico, anche se in realtà non esisteva. Il fatto che l'abbiano voluto così tanto in questa sezione, che da anni fa delle cose anche molto, molto interessanti, è stato un motivo, almeno per lui parlo per me, un motivo di grande soddisfazione. Sì, in un certo senso,